Una serata per i 95 anni dell'Arezzo, lunedì sera che cosa accadrà? Allora lunedì sera abbiamo pensato di, cioè innanzitutto è un evento che dovrebbe ripetersi ogni anno fino a arrivare speriamo ai fatidici 100 anni e poi oltre per chi è più giovane e via. Si è cercato di riorganizzare proprio questa festa, questo compleanno dell'Arezzo che cade il 10 settembre con tanta voglia di fare festa dopo tutta la paura che abbiamo passato nello scorso campionato. Abbiamo istituito due premi, uno è l'All of Fame, l'All of Fame tutti gli anni saranno premiati due calciatori e quest'anno abbiamo pensato di iniziare con Francesco Graziani, che è il giocatore che più ha rappresentato Arezzo nel mondo, cioè più che diventare campione nel mondo non si può. E l'altro è invece Raul Tassinari che è una persona che ha legato la sua vita all'Arezzo sia da giocatore che da allenatore che da dirigente, oltre che è stato uno dei padri fondatori del museo, per cui ci piaceva, non si potrà premiare direttamente perché Raul purtroppo non sta bene, però il premio c'è ed è per lui. Altre due premiazioni riguarderanno il Vecchio Cuore Amaranto e qui abbiamo il ricordo dell'Avvocato Bruno Pichi che oltre ad aver fatto qualche partita negli anni 30, secondo noi è lo storico per eccellenza, cioè se il museo c'è, se tanti libri sull'Arezzo sono stati scritti, tutti partono dagli scritti dell'Avvocato Pichi e quindi ci sarà un premio alla memoria ritirato dalla famiglia. E l'altro Vecchio Cuore Amaranto è il professor Fabrizio Bulletti, il prof di tutti, quello che ha fatto correre e mandato in tilt tutti coloro che sono passati sotto le sue direttive e ha dato anche lui una vita spessa proprio per la causa Amaranto e ci piaceva di premiarla. Fatto questo ci sarà un terzo premiato nell'All of Fame e quello però lo sveleremo durante la serata, per ora lo teniamo nascosto. È chiaramente una persona che ha inciso tanto nella storia dell'Arezzo. Dopodiché, fatte le varie premiazioni, ci sarà una degustazione di pizze particolari e la torta del museo della festa dei 95 anni. Quindi noi invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la maglia perché è una festa del museo, ma è una festa del museo rivolta all'Arezzo. Quindi è una festa, il compleanno non è un compleanno del museo, è il compleanno dell'Arezzo.